Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo vlog, sempre se il signorino mi lascerà in pace, no, mi sa di no, vabbè, dicevo, praticamente, giovedì, sono, praticamente, era Halloween, quindi, no, ci era Halloween, ve lo dico, in realtà no, non me lo ricordo, vabbè, comunque sapevo che il giorno dopo, praticamente, potevo fare quello che volevo, perché tanto, sì, era, era Halloween, adesso mi ricordo, praticamente, sono stata con, a scuola, a fare un manifesto per cose che mi piacciono, e poi, vabbè, siamo tornati a casa, ho dovuto tornare in fretta, perché dovevo andare poi dalla mia educatrice, Valentina, che poi abbiamo fatto delle foto insieme con la maschera, quella che mi ha regalato un uomo di mamma, bella, e vabbè, poi sono tornata a casa, perché poi dovevo stare lì, perché poi ho sentito che voleva andare da nonno, quindi, tutto il pomeriggio, ho finito, poi, poi, Pokémon Nero 2, che tra l'altro è stato veramente complicato, comunque, poi, a parte quello che sono stata a casa, poi, nulla, io vi saluto, ci vediamo tra poco con il video di venerdì, ciao!